Si entra dalla California, dove si tratta di un'altra stagione speciale, entrando in tutto il mondo, entrando nella collezione di un settore, entrando nella collezione dei presidenti del dinamico stesso, con una cava bianca, con una cava bianca, con una cava bianca grande nel compasso della grafica per i tuoi soldi. Perché quando si entra dalla California, quella strada che porta Ortona a mare, si rinnamora delle sue origini e le dipinge. I più grandi collezionisti sanno questo essere il soggetto per antoromasia, che rappresenta la cultura poetica di Michele Cascella. Questo è un lavoro fondamentale, ne ho cinque a disposizione, ne ho veramente pochi, perché è una tiratura esigua, la maggior parte di queste opere sono per il mondo. Stan Market ha avuto la cultura di acquisire diversi lavori, tra cui pochi rispetto al soggetto che per antoromasia rappresenta la cultura di Michele Cascella.